In attesa dei fondi provenienti dal piano di zona S8, il Comune di Agropoli darà continuità ai servizi di micronido e ludoteca per i bambini e bambine del territorio comunale. I finanziamenti del piano di zona per i servizi sono stati emessi fino al 31 gennaio, ma nonostante ciò è stato assicurato che la Regione Campania delibererà ulteriori finanziamenti per il 2020. Con lo scopo di non interrompere il servizio, l'amministrazione comunale su proposta del sindaco Adamo Coppola ha ben pensato di anticipare le somme necessarie per il funzionamento del servizio di micronido con ludoteca integrata per bambini da 12 a 36 mesi. La somma complessiva per il progetto che vedrà la compartecipazione della cooperativa Venere anche nella somma investita sarà di 30.000 euro, prevede l'utilizzo per i mesi di gennaio e febbraio di un coordinatore, sei assistenti dell'infanzia e due educatrici impegnati per cinque giorni alla settimana dalle ore 8 e 30 alle 16. Una lodevole decisione presa dal comune e di grande importanza per i bambini agropolesi.